Sempre in diretta da Sanremo, Icop 2009, mentre si sta giocando il cash game in streaming che potete guardare sul nostro forum, si sta giocando anche l'ultimo satellite per l'unico posto disponibile per il main event di domani da 64 partecipanti. Nonostante al momento siano soltanto 25 giocatori, il field non è male, infatti abbiamo a questo tavolo Giannino Catt e Cipollini e Sciamadeo. Per poi passare a questo tavolo abbiamo Lusso, il sito 9, Bonadena. E per finire al tavolo 1, dove abbiamo l'amico di Viv Roberto Snega Pompei con a fianco Eliano Berrettieri. Mi sembra che si stia aprendo un altro tavolo, dove si sono appena seduti questo di spalle Alex, il doggio a Longobardi e Umberto Italiano. Vogliamo che c'è solo un posto garantito per il main event e il resto dei premi verrà pagato se ci sarà, perché non so di quanto è sicuramente adesso il buy-in, il resto dei premi verrà pagato cash.